Allora, una delle sorprese più belle di questa mostra di Venezia per noi di Hot Corn è Est, dittatura last minute, di Antonio Pisu, che è qui con noi con Lodo Guenzi, uno dei tre protagonisti della banda. Allora, partiamo con Antonio. La sceneggiatura è tratta dal libro, come sei venuto a conoscenza di questa storia? Allora, ciao a tutti, intanto, beh, la storia è una storia vera appunto, tratta da un racconto che Maurizio Paganelli, che tra l'altro insieme a Paolo Rossi è uno dei produttori, mi ha chiesto di sceneggiare circa un paio d'anni fa. Così ho fatto e la sceneggiatura poi è stata presentata sia al MIBAC che alla regione Emilia Romagna, è stata finanziata, ha avuto un buon successo ed eccoci qui, siamo riusciti a fare un film e siamo tutti, credo, molto contenti, almeno io lo sono. Infatti avete ragione di esserlo. Lodo, com'è stata l'esperienza con Sveglia alle 4 e mezza in inverno? Ebbè, uno fa l'artista per svegliarsi tardi e poi va a finire così, il cinema è un lavoro, è un lavoro di 8-10 ore al giorno, in Romania anche 12, in Romania si può, anche 14, però insomma, sono stato molto confortato dal fatto che ero con un ragazzo giovane, che si chiama Antonio Pisu, che più o meno, è un po' più vecchio di me, ma la mia età, poi comunque è giovanile, basta che si taglia i capelli e sembra ne dimostra anche 33-34, eh? Sì, ho un'età interiore di circa 70-73 anni. Non è niente male, quando è iniziato il film non aveva neanche un capello bianco. Adesso non so se si vede in video, ma... È un affascinante brizzolato, abbiamo trasformato un ragazzo in un affascinante brizzolato, questo è quello che il cinema può fare, brizzolarvi. Senti Antonio, ma le canzoni di Battiato, è stato difficile averle? Vi è costato tipo un metà budget del film o no? Beh, questa è una domanda che i produttori ancora si stanno facendo, perché sì, è costato ovviamente tanto, però era importante averle perché la colonna sonora originale è di Davide Caprelli e poi ci sono le musiche sia di Battiato, a cui non tenevo molto, anche perché le vedevo nei filmati originali che appunto erano stati fatti nel viaggio dell'89 da Maurizio Paganelli, Andrea Riceputti e Enrico Boschi e si sposano benissimo, con Battiato una potenza fortissima sia veramente di tematica che si sposa benissimo col film e così anche abbiamo usato Albano, felicità a contrasto con le immagini tremende insomma di un paese che vive sotto la dittatura. Senti Lodo, vedendo il film invece l'alchimia tra voi tre con Matteo Gatti e Jacopo Costantini è fenomenale, peccato che non sono qui altrimenti potrebbero testimoniarlo, come è andata sul set? E beh, abbiamo fatto amicizia, siamo diventati amici veramente, il che era fondamentale perché non è che passavamo semplicemente tutti i giorni assieme, passavamo tutti i giorni assieme dentro una macchina, parcheggiata su un'altra macchina che trasportava la macchina medesima. E niente, a un certo punto eravamo così a nostro agio che abbiamo imparato ad addormentarci in macchina, poi abbiamo dormito assieme, ci sono delle foto molto coccolose di noi addormentati assieme, nella roulotte, nel camerino, noi dormiamo assieme perché l'amore poi è questa cosa, cioè il sesso, la passione riguarda cose anche magari fugaci, però le persone con cui dormi assieme sono quelle veramente importanti nella vita. Per continuare questa intervista vogliamo chiamare Matteo Gatti e Jacopo Costantini? Ma chiamiamoli! Ma a sorpresa! Ma a sorpresa, sono arrivati! Faccio la vita di scavalcare! Esatto! Questa sarebbe stata... Ecco qui, adesso facciamo il cambio intanto, intanto ringraziamo Antonio Piso Lodoguenzi, grazie! O ci state, se ci state tutti... Ma sì, siamo comodissimi! Di distanze di sicurezza che salta, però c'è un uomo con la mascherina... Quindi siamo a polvo, abbiamo una botte di ferro! Una quarantena insieme, in Romania! No, stai, 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 stai qua in mezzo, che ti frega! Siete qui! Eccolo qua! Sta succedendo tutto adesso, quindi non stiamo fingendo nulla! Allora, Matteo Gatti, com'è stato guidare quella macchina? Perché poi tu sei... Orrendo, orrendo! Però ci sono due pezzi in cui sgommo! State molto attenti guardando i film, ci sono due pezzi in cui sgommo! Io faccio schifo a guidare, era una macchina del 90 se non sbaglio! Fa schifo a guidare, ma è un grande attore! E questo colma le lacune! Però sgommo due volte, ci tengo a evidenziare! Parli benissimo francese! E parlo un francese incredibile! Questo è quello che posso dire sulla mia interpretazione! Guido male la macchina e parlo male francese! Io sono completamente incapace di capire il francese, nonostante sia una lingua neolatina, c'è una scena con una signora anziana che parla in francese, l'avremmo ripetuta con i punti di vista, non lo so, per un pomeriggio... 25 volte, 35 volte! Io non ho mai capito che cazzo stesse dicendo quella scena! E neanche adesso guardando i film con i sottotitoli! A un certo punto Antonio mi ha detto, no ma adesso facciamo i tuoi piani d'ascolto! Bello, un'espressione molto... avevo questa espressione qua! Io proprio mi chiedevo, perché sono l'unico in questa stanza che ancora non capisce che cazzo sta dicendo? Io comunque do già l'Oscar come migliore incassatore di insulti a Bibi Jacopo Costantini! Sì! Lui incassa con una classe infinita! Lo faccio nella vita! Non è bene! Nella vita insulta gli altri! Nella vita ricevo insulti! Il provino è stato così, Antonio mi ha insultato tutto il tempo e ha visto come incassavo e eccomi qua! L'ultima domanda, che effetto fa essere qui a Venezia con un progetto così bello anche in cui avete messo tanta passione? La domanda per chi è? Per tutti! Uno alla volta! Beh, allora inizio io poi andiamo magari a rotazione! Beh, per il Gionoma Films insomma dopo solo quattro anni dalla nascita essere in un conorama così importante è una cosa incredibile, fondamentale e quindi siamo onorati e felici! Ieri tra l'altro è stato padrino anche della visione di Est, un signore che non so se avete sentito nominare che si chiama Oliver Stone che ha visto il nostro film e l'ha gradito molto, gli è piaciuto molto quindi siamo iper e super felici! Prego! Ehm, ho un fratello piccolo che dice sempre questa frase, e pelle seppele, è una frase che non ha un significato però l'abbiamo portata nel film e quel film è a Venezia e io lo dedico ad Alessandro Gatta Io volevo solo dire che è un onore per noi essere stati rapiti dalla stessa Anonima Sequestri che ha rapito Oliver Stone Cazzo è difficilissimo chiudere dopo queste cose bellissime Non lo so! Viva Est! Viva Est! Me lo fate, l'ultimo sogno è voi che intonate felicità come a quella tavola Io non mi ricordo il testo Senti nell'aria che va Mangiare un panino con dentro... Senti nell'aria che va La nostra canzone d'amore che va Come un pensiero che sa di felicità Grazie mille ragazzi e buona fortuna Grazie 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 a tutti